Consigliere Sospiri, oggi avete presentato delle proposte per quanto riguarda la presenza di immigrati in Abruzzo, tra l'altro avete anche parlato della presenza di queste persone nei piccoli centri della provincia di Pescara e non solo, con gli amministratori che vengono informati praticamente al momento di tutto questo. Allora, se sono immigrati, intanto sono immigrati clandestini e si devono tornare a casa loro. Se sono presunti profughi, allora parliamo di quello che sta avvenendo. Noi abbiamo presentato quattro proposte di legge che hanno questo obiettivo, sono molto sintetico e schietto. Interrompere il business che fanno i privati sul fenomeno immigrazione, richiamare la regione Abruzzo al mantenimento dei suoi compiti istituzionali, che vuol dire coordinare e rendere trasparente il fenomeno e non farlo scaricare sulla responsabilità di sindaci di medie, piccole, piccolissime città e paesi della nostra provincia, ma della nostra regione, che quali mezzi dovrebbero avere per contenere questo fenomeno. La regione Abruzzo fa finta di niente, se ne frega, non so perché poi chi partecipa a questi bandi sono cooperative da un colore molto chiaro, ovvero rosse, o sono le stesse istituzioni regionali benefiche come l'IPAB, a cui la regione non trasferisce soldi e quindi fanno quadrare il bilancio sui presunti profughi. Ma questo è un fenomeno che non si legge più per la situazione di Monte Silvano dell'Eccelsior, dove ce ne sono troppi in un albergo che non è in grado di ospitarli e che non li dovrebbe ospitare perché non è nelle condizioni di ospitarli in un quartiere preferenziale, residenziale, ma non si legge nei paesi della provincia di Pescara, dove magari arrivano 25 presunti profughi a Vestea o a Pianella o a Moscufo o a Turri Varignani dal giorno e dalla notte, perché c'è un imprenditore, non so neanche se definirlo così, molto cinico che fa affari su stipare più gente possibile.